Allora, sono passati vent'anni, è un momento cruciale, come suol dire, l'inizio e l'inizio, diceva qualcuno, quindi è un po' un momento dolce amaro, ovviamente anche per ragioni più drammatiche, ma anche per professionalmente guardarsi indietro, guardare indietro il rapporto tra te e il personaggio, insomma, come sintetizzi un po' questi mesi intensi? Guarda, ti dovessi dire la sincera verità, anzi ti ringrazio per la domanda perché non ci avevo mai pensato a questa cosa, devo dire che sono molti, molti, molti di più i momenti dolci rispetto a quelli amari, nel senso che appunto, al netto di quello che è successo, come dicevi tu, nel senso che io sono abbastanza pacificato distretto a questo personaggio, perché non mi sono mai fatto manca niente, quando mi andava di farlo l'ho fatto, fregandomene di tutto, mi sono divertito, sono stato benissimo, mi ha dato tanto sto personaggio, proprio in termini di carriera, in termini di essere conosciuto non solo in Italia ma in giro anche per il mondo, quindi diciamo che i momenti amari sono semplicemente quelli di sapere che tanta gente se ne è andata in questi vent'anni, soprattutto nell'ultimo anno è stato un anno drammatico, però diciamo che non ho rimpianti, nel senso che se anche dovesse, dovessimo decidere, come dicevamo prima, di finirla qua, io sarei felice così e consapevole di aver vissuto un'esperienza meravigliosa, meravigliosa, straordinaria. Ti sei trovato dietro alla macchina di presa appunto tuo malgrado, quindi è stato un po' come il famoso bambino che viene buttato in acqua e deve imparare a nuotare, come ti sei trovato? Anche perché insomma chiaramente è un film in cui sei anche come attore praticamente in ogni scena, quindi questa adrenalina è una adrenalina anche positiva che ti ha messo voglia poi di proseguire questo cammino dietro alla macchina di presa? No, assolutamente sì, assolutamente sì, guarda io sono arrivato in quel posto, erano dieci anni che dicevo anche in giro voglio fare un coso, un film eccetera, poi non mi decidevo mai a trovare una storia, con la scusa appunto che non trovavo una storia. Questa roba qua mi hanno dato una petata nel sedere e mi hanno detto gira, non solo, sapendo anche che quello non era al posto mio, ma era al posto di un amico che in quel momento stava male in ospedale, quindi i primi giorni sono stati veramente forti, mi hanno sostenuto con l'idea che stavo tenendo il fuoco vivo nell'attesa che Alberto tornasse, poi purtroppo Alberto non è più tornato, ma sono stati dei momenti frenetici, io sono andato a guidare tre episodi, quindi so come se fossero tre film senza aver visto un costume, una location, senza essermi preparato a farlo, quindi sono stati dei giorni freneticissimi, mi raccontavo prima che giravo, andavo a vedere al monito, tra il sette il monito mi fermava la costumista e diceva senti tra tre giorni gira questa qua, guarda un po' questa qua, si va bene, no, questo no, perché c'è stata qua, poi facevo un altro passo e arrivava la scenogra che diceva sempre, quindi tun 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 tun, la gente sembrava veramente che mi prendessi qualche additivo chimico, perché non ho mollato di un centimetro, il problema è che quel tipo di lavoro ti dà un senso di pienezza, un senso di che la sera mi dovevano, come dire, levare la macchina da presa, ripeto, non fosse stato per il fatto che ero lì per un'ombra che mi pesava, perché sapevo che Alberto stava male e speravo che tornasse presto, sarebbe stata comunque un'esperienza positiva, tanto che adesso lo voglio fare. Certo, arrivando invece a parlare del film, il metodo Catalanotti, è un po' una summa delle tematiche di Camilleri, della capacità di ironizzare anche su temi seri come magari la morte, tra l'altro questo chissà anche un po' ci insegna qualcosa anche a tutti quanti noi e soprattutto c'è una crisi in qualche modo del personaggio che mostra le sue fragilità, quindi com'è andata nello specifico? Guarda, Camilleri ha operato una sorta di tradimento nei confronti del suo personaggio, che ci aveva presentato per così tanto tempo come un uomo che amava la sua terra, il suo mare, il suo ristorante con i suoi cibi, la sua donna, il suo lavoro, la sua squadra e via dicendo, a un certo punto in questo romanzo tutto si mette in crisi. Lui stesso racconta alla ragazza con cui ha questa relazione, che ha preso una sbandata, per la quale ha preso una sbandata, le racconta, dice, io ho capito che l'unica cosa che voglio fare è stare con te, non me ne frega più niente di questo, di questo, di questo, di questo, io mollo tutto e vengo dietro. Capisci che per raccontare una cosa del genere, sulla carta, tra virgolette, è abbastanza semplice, nel senso che la letteratura ti permette di sapere quello che il personaggio pensa, tu nelle immagini questo non ce l'hai, o metti la voce off, o non sai quello che, lo devi far vedere quello che pensa. Quindi abbiamo innanzitutto azzerato quello stile di recitazione che era un po' commedia dell'arte, in quelle scene lì c'è un altro tipo di recitazione, non c'è Montalbano, è un uomo innamorato di una donna, lo possiamo chiamare Dottor Zivago, Marco Cipolletti, eccetera, ma c'erano due attori che facevano i conti con un sentimento vero, in un piano di assoluta, totale realtà e naturalismo. E poi c'era da raccontare l'infatuazione di quest'uomo, e anche lì, da un punto di vista registico, abbiamo adottato altri metodi, oppure il dolore straziante della telefonata tra Montalbano e Livia che si lasciano, lì devi proprio sentire stranft di qualche cosa che si rompe, perché una cosa è un tradimento, e a questo il commissario ogni tanto aveva indugiato, a qualche sorella, ma non c'era quel tipo di dolore, quel tipo di, come dire, di... qui sì. Forse in qualche modo è un altro dei testamenti, un po' di Camilleri, cioè il fatto che risuona tra l'altro molto contemporaneo, poi quest'anno di pandemia, il fatto che alla fine poi, al di là della carriera, al di là di tutte le cose concrete, poi i sentimenti sono quelli che, dei confronti ai quali ci troviamo di fronte poi nei momenti cruciali. Guarda, questa è una bella riflessione, che sinceramente non avevo fatto, però fa il paio con una cosa che lessi qualche tempo fa, per cui una ricerca di non so quale università inglese diceva che poi alla fine gli uomini, gli uomini, gli esseri umani più felici erano quelli che avevano investito negli affetti, non tanto nei soldi o nella carriera, eccetera, ed erano quelli che anche erano i più longevi. Quindi, parafrasando questo dato, potremmo dire che appunto Camilleri è come se ci avesse lasciato un lascito sul cui riflettere, che è quello appunto dell'importanza dei sentimenti veri, reali, autentici.